musica 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 carne pollo maiale aglio aglio mmmm che profondo allora pensa a luci caccia nevata e dice uno ma il pasticciotto che sa un pane un pane ci sta perchè non si vede più è presente provate icedi peach musica questo è il ponte dei leoni credo perché prima camminavo nei leoni e perché ci sono i leoni musica 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 la sua idea è che c'è lì sono zlucati tutti ginesi musica 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 Prendevo una petra, delle petrine, delle petre, una petra. No, è una vodka bulgara. Questa è tipo la gambla, come diceva Giulia, è bulgara. Stamattina noi siamo finiti in un museo dell'illusione, in un mercato delle donne dove vendevano cose strane. Poi siamo finiti in questo palazzo dove c'è un evento su Dead Carpet del Cinema e dove ci hanno dato dei gin tonic gratis. Con gin particolare, pineapple pizza, trenta, salute, cheers, nasgrave. È buono, ti piace? Sì, buono. È agrodolce, ma bello. La mia visita che piace. Perché c'era sempre la stessa musica. Scattiamo fotografie perché siamo degli artisti. Vediamo un video di contrabbando. Contro il regino. Fumiamo sigli di contrabbando. Ascoltiamo musica jazz, neta, in un video del genere. Hello, my friend. I like Italy. Italy like me. Ok? Forza Italia. La pizza migliore di Napoli. Napoli è mille volore. Tre, due, uno. Pensavo più piccante. Sì? Sto morendo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti.